Siate dei lettori curiosi, vi ripeto molto spesso cari amici, allora per stimolare ancora di più la vostra curiosità nell'ambito degli ebook che potete trovare su ebooks Italia e negli ebook di qualità che vengono pubblicati da Simonelli Editore ed ora in poi, ogni sabato, vi segnalerò delle letture che meritano di essere prese in considerazione. Questa settimana mi rivolgo a tutti coloro i quali amano leggere per arricchire le proprie conoscenze culturali e per gli appassionati di arte c'è proprio una serie di ebook molto ma molto golosa che è un ebook dedicata a 16 scultori italiani del Novecento. Sono 16 ebook che offrono il ritratto in diretta realizzato da chi li ha conosciuti bene come Mario Pancera di 16 protagonisti della storia della cultura italiana del Novecento. Pensate, ciascuno di questi ebook costa solo 0,99 centesimi di euro, meno di un euro per ciascuno di questi 16 ebook che arricchiranno le vostre conoscenze culturali sulla storia dell'arte del Novecento. Leggeteli!